Mi sento una nota che ci sono persone che mi hanno mandato a conferenze di prensa con il signor Dovers a Atene. Mi sono visto che per me c'è una sorpresa. Nel primo luogo, in un momento ho messo a questionare il signor Dovers. Mi ha messo nella mia ultima ruota di prensa che mi ha messo andato per l'impresa del nostro Stato, che mi ha messo nella mia ultima ruota di prensa che ha ricevuto la placa e ho messo a divulgare chi è qui non è. In un momento ho messo la mia nuova e se mi fuori la ruota di prensa di signor Dovers, mi ha messo la parte di Reibowason, del corpo policiale, mi ha messo a capire del buro di exame Reibowason, mi ha messo a comprender la sua ponenza e nel momento ho messo a capire di quello che ha messo, se si sa che di maniera che non si vai ricevuto la politica e lo vai ricevuto di forma che mi ha messo a capire di un problema con il ministro di giustizia attuale. Non è un problema, non è un problema, non è un problema, non ho messo a capire di politica, non ho messo a capire di un passato. Io sempre ho messo a capire di un politico e di un certo modo ma sto per sei andato, e i messi cosa che la riusciano a capire di comunque, mi ha messo a capire di un buon. Io è sempre una tante che mi ha messo a capire di un spinore. Io non mi volevo spiegare, non mi insegnare qualcosa, non mi ha messo a capire di un pacso, non mi ha messo a capire di un ufficine, e faccio sempre questa relazione con noi, un calcolo non cambia. e a troppo mi ti compartei sua opinione che se c'è qualcosa che è full vote, castigabile, corruzione, o che vuoi andare contro la procedura per il Ministro del Público o per la ricerca e se c'è lo che mi ti abbia raggiungo l'unico a passare per lo che c'è un rapporto con la mia intriga. A troppo mi non c'è mai spiegato, per lo che c'è un rapporto con la nostra intriga come frazione di MEP, ma mi ti explica che è differente ma mi ti abbia dimenticato che cosa vorrei segnalare non soltanto costa la procedura di MEP, ma anche costa la scuola per quanto è castigabile, secondo il Código Penale. E questo è quello che mi ti abbia, e ci facciamo il nostro rapporto con il Ministro del Público, ma mi viene da differenze conferenze di prensa, ma mi explica come fuori la procedura, e la maniera di conoscire è assistenza per la scuola per la scuola per la scuola.